Quando denunciamo i trattati di libero scambio senza le clausole di salvaguardia, gli intellettuali da salotto ci guardano con sufficienza. Quando denunciamo l'invasione di prodotti stranieri sugli scaffali dei supermercati senza che quantomeno l'origine sia ben visibile in etichetta, qualche ex ministro ci ha accusato di diffondere fake news. Oggi, grazie ai controlli della regione siciliana, si scopre che in un mercato di Siracusa ci sono arance spagnole trattate con prodotti tossici. Abbiamo fatto e continuiamo a fare pressione alla Commissione Unione Europea affinché si attivino le clausole di salvaguardia previsti e mai attivati dagli accordi di libero scambio dall'UE al fine di fermare non solo la concorrenza sleare con il settore agrumicolo ma anche un vero e proprio attacco alla nostra salute da parte di prodotti che arrivano direttamente nelle nostre case senza dazi e spesso senza aver rispettato diritti umani, norme igienico sanitarie e di informazioni di tracciabilità. A dichiararlo è l'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao a proposito del sequestro in un supermercato del Siracusano di una partita di limoni spagnoli trattati con i Maxanil, un fungicida potenzialmente cangerogeno. Quanto avvenuto a Siracusa, sottolinea l'eurodeputato Corrao, pone l'accento su una questione che abbiamo già segnalato alla Commissione Europea sulle bucce non edibili degli agrumi. Anche in questo caso purtroppo abbiamo registrato uno scaricabalile di responsabilità tra istituzioni. Rivolgiamo pertanto un appello al Ministro all'Agricoltura Bellanova affinché faccia sentire la voce del nostro Paese e un'Europa a proposito della necessità non più rinviabili dell'attivazione di clausole di salvaguardia. Dobbiamo inoltre congratularci con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e ci auguriamo che la Regione potenzi i controlli e si faccia promotrice di protocolli d'intesa con le forze dell'Ordine, conclude Corrao, per garantire la sicurezza alimentare.